Lo ha anche detto in Senato oggi, no? Cioè c'è un Parlamento sostanzialmente fermo, un governo... È tutto fermo. Fermo. All'Italia è ferma perché hanno rinviato. La revoca delle concessioni alle autostrade sono ferme perché hanno rinviato. Sulla giustizia hanno rinviato oggi perché stanno litigando. Sull'autonomia non si sa più nulla. I decreti sicurezza sono fermi perché non hanno trovato l'accordo. Sull'economia, ragazzi, avete visto i dati sulla produzione industriale di questa settimana, si è tornato indietro al 2013, ci fosse un governo con cui non sono d'accordo, che fa le cose, io lo contesto, però prendo atto del fatto che fanno le cose. Questi non ne fanno una. Se non litigare il MES, il Trattato di Riforma Economica Europeo, l'hanno rinviato ad aprile. La tassa sulla plastica l'hanno rinviata a luglio. Di rinvio in rinvio, ragazzi, qua il Paese si spegne. Poi io giro per Roma e trovo vendesi e affittasi nei negozi. Ho provato ad andare in giro in bicicletta, quando mai, nel senso che... Beh, le piste ciclabili però le hanno fatte, quindi... No, ma la strada normale. Io ho provato da... Le piste ciclabili su quello... Poi, ogni tanto vado alla Metro Barberini a vedere se c'è qualcosa, perché probabilmente... In entrata o in uscita. Adesso ho visto che c'è un cartello dove si può uscire, ma io non ho mai visto una metropolitana dove non puoi entrare ma puoi uscire. Guardi, colgo l'occasione... Ma come fai a tenere chiusa una metropolitana per un anno? Lo chiede all'assessore al 19.30, fino alle 20.25, sarà ospite. Non ho stresto di proprio l'assessore di Roma Capitale ai trasporti, perché abbiamo avuto con lui un confronto anche. E quindi? Che gli dobbiamo dire? Come mai più di 300 giorni? Noi gli abbiamo chiesto in tutti i modi. Cosa avrebbe fatto? Perché doveva aprire a novembre, poi a dicembre, poi a gennaio... Matteo Salvini, cosa farebbe? Perché poi nel concreto i romani si chiederanno questo, no? Ti si rompe una scala mobile? Ma a Milano è successo tante volte, ma non ci metti un anno a far ripartire quella scala mobile. Poi ti dirà, immagino, è colpa del governo, è colpa dell'autorità, è colpa della regione, è colpa del ministero, è colpa della sfortuna, è colpa della Madonna di Meggiugori, è colpa di qualcuno, però la metropolitana non funziona. Il piano rifiuti non esiste, quindi io sono stato a Roccacencia, sono stato nei depositi a Atac. Ecco, ma vi pare normale che ogni tanto prenda a fuoco un autobus? Ma non siamo in zona di guerra. Perché devono prendere fuoco gli autobus? Perché sono vecchi. Eh, capire? Allora cambiali. No, c'è un parco... Dice, non ho i soldi, non ho i soldi. Gli fate la domanda, ma ovvio che non è solo colpa della Raggi che è qua da tre anni e mezzo, per caità di Dio. Le colpe vanno equamente distribuite anche con quelli che c'erano prima. Però, sei qua da tre anni, 230.000 pratiche edilizie ferme in ufficio. Quando? Devi assumere persone. Oh, e lei dice, è colpa anche di chi c'era prima. È evidente che non è che prima ci fosse il paradiso terrestre e poi in questi tre anni c'è il disastro. Però in questi tre anni, io sono stato a Ostia settimana scorsa, non è normale che nella capitale d'Italia ci siano centinaia di famiglie senza riscaldamento a gennaio. Puoi stare senza riscaldamento per due giorni perché ti salta la tubatura, ma non puoi stare senza riscaldamento per due mesi. Non è normale. Allora la squadra Salvini diventerà fondamentale su Roma Capitale. Fondamentale, non basta il sindaco. Perché su questo è già stato un po' attaccato come lì. Allora ci sono dei ritagli, non ce li ho sotto mano, però qualcuno ha scritto... Noi stiamo lavorando a una squadra. L'uomo solo, l'uomo solo. Non parliamo di squadra nei rispettivi assessorati, che però ci sono una serie di persone che prima erano in Forza Italia, adesso sono nella Lega. Davide Borboni mi viene in mente, oppure assessori che erano nella Giunta Le Manno, che adesso faranno parte. E allora dice, ma dov'è il nuovo di Salvini? Ma guarda, io non sono per buttare via tutto il pregresso. Se c'è qualcuno che ha fatto esperienze positive e vuole continuare a farle, per carità di Dio è il benvenuto. Poi il 90% della gente però è nuova, è fresca. Io non sono... I Cinque Stelle dicono, anche se hai fatto l'amministratore di condominio, sei un politico ladro fallito e quindi non puoi più fare niente. No! Perché c'è qualcuno che ha fatto il sindaco, l'ha fatto bene, c'è qualcuno che ha fatto l'assessore, l'ha fatto bene, e quindi se non si ritrova più in Forza Italia o in altri schieramenti e vuole dare una mano... Ma anche dai Cinque Stelle. Noi in Senato abbiamo tre senatori, che hanno mollato i Cinque Stelle perché non ne potevano più, e si occupano di giustizia, di sanità e di università con la Lega e sono assolutamente benvenuti. È chiaro che su Roma sarà fondamentale la squadra perché qua c'è da recuperare almeno dieci anni di pregresso, ma da tanti punti di vista e quindi stiamo già ragionando di ambiente, di edilizia, di patrimonio di case popolari, di trasporto pubblico, di commercio. Ci sono dei dati sulle chiusure dei negozi che sono... Lei ce l'ha una visione precisa di Roma Capitale da ex ministro leader della Rega che è stato anche piuttosto avversato. Allora, è ovviamente la città a cui da ministro abbiamo dedicato più risorse per la sicurezza come telecamere, come assunzioni, come presidi di forze dell'ordine, però è una città enorme anche come superficie è grande sette volte Milano. Se tu vai a Ostia non ti dicono siamo a Roma, ti dicono siamo a Ostia perché sono 280 mila abitanti. È uno dei primi dieci comuni italiani se fosse a sé stante. Quindi è chiaro che occorre ridisegnarla. Serve la Regione? Serve la Regione perché di sanità si occupa la Regione, di trasporti e di rifiuti si occupa la Regione però qua c'è un presidente di Regione che è dappertutto tranne che la Regione mi sembra aver capito il signor Zingaretti. E quindi è chiaro che va ridisegnata e rivista sia a Roma che in Lazio. Oh, a proposito di squadra oggi in tribuna al Senato c'era Giorgia Meloni, no? Sì, certo. Mi ha fatto piacere. Ecco, la stampa di Torino oggi apriva con Meloni, Salvini ci fa la guerra. Insomma, c'è competizione adesso? È diventata più forte? Io con tutto rispetto per la stampa di Torino leggo la settimana in mistica e la gazzetta dello sport. Ormai l'informazione la traggo dai siti, dalle radio perché ormai mi fido poco e niente. A volte mi leggo sui giornali delle interviste mai fatte, delle dichiarazioni mai rilasciate. Nel centro-destra, il centro-destra è squadra e siamo al 50%. Se si votasse oggi il governo ci sarebbe e sarebbe stabile con le idee chiare e per cinque anni andremo avanti. Poi vi siete fatti quel selfie due o tre giorni fa che per molti invece era significativo. Ci siamo trovati a Basovizza anche perché era un luogo particolare il giorno del ricordo, le foibe, i martiri italiani massacrati dai partigiani slavi comunisti che è una pagina di storia ahimè ancora negata da qualcuno per cui non esistono le decine di migliaia di italiani massacrati dai comunisti in quegli anni e quindi più cresce tutta la squadra del centro-destra meglio è per tutti. Quindi nessuna frizione come noi. Ma figurati ci mancherebbe altro. Ai giornali piace cercare il litigio probabilmente per cercare di coprire il fatto che di là fra Renzi Conte Di Maio Zingaretti se le suonano di santa ragione. Noi stiamo lavorando per un progetto di governo che duri almeno cinque anni. Poi si vota fra una settimana si vota fra sei mesi si vota fra un anno e mezzo non lo so prima o poi si vota e i dati economici sono assolutamente preoccupanti purtroppo. Spero che non si voti troppo tardi perché questi fanno danni. Ecco questo è un governo comunque che si tiene su nell'opposizione a lei. È un governo il cui unico obiettivo è non far votare gli italiani perché sennò rischia di vincere Salvini. E' bello che lo dicono non è che stiamo insieme al governo per la riforma delle pensioni per la riforma della giustizia no perché sulle pensioni litigano sulla giustizia litigano sull'economia litigano c'è sta roba delle autostrade pensate perché poi la vita reale adesso ci starà ascoltando gente dall'autostrada il fatto che da sei mesi PD e 5 Stelle litigano sulla revoca delle concessioni autostradali sta bloccando 13 miliardi di euro di investimenti come manutenzione sulle autostrade in tutta Italia non solo a Genova per i Benetton perché non si firma nessuna nuova convenzione quindi è tutto bloccato ma ti pare normale che da sei mesi questi blocchino 13 miliardi di euro di investimenti sulle autostrade però prima Salviniari era più certo fino a qualche tempo fa che si andasse un pochino più velocemente al voto adesso lei parla sei mesi un anno un anno e mezzo prima o poi si andrà al voto il nostro dovere è preparare una squadra un programma di governo pronti per quando gli italiani saranno chiamati a votare non scelgo io questi sono incollati alla poltrona come la cozza allo scoglio però il collante del stiamo qua perché se no rischia di vincere Salvini stiamo qua perché se no non mi rileggo ne mi tocca tornare a lavorare non puoi andare avanti tre anni così anche perché ripeto i dati economici sono pessimi poi ci si aggiunge il coronavirus le crisi aziendali Eritali Alitalia Ilva Whirlpool Mercatone 1 ma infatti su questo peraltro è arrivato due giorni fa una sorta di appello di Zingaretti agli altri che governano con lui soprattutto ai 5 Stelle ovviamente si stava parlando di prescrizione e a un certo punto lui dice beh facciamo una cosa però prima di dare la parola a chi gli era dietro veniamo a parlare di lavoro e invece cioè Bonafede e il Movimento 5 Stelle continua a tenere duro sul tema però sul lavoro ad esempio ma sul lavoro ci sono in area PD persone che vogliono cancellare quota 100 per alzare l'età pensionabile e secondo me è una follia in un momento di crisi economica di disoccupazione giovanile tu aumenti l'età per andare in pensione e che risultato ottieni che sempre meno giovani trovano un posto di lavoro quindi e però i 5 Stelle non sono d'accordo sul reddito di cittadinanza non sono d'accordo sulla riforma della giustizia il titolo di apertura di adesso non sono d'accordo su cosa sono d'accordo sul fatto che gli sta sulle palle Salvini però non è che governi un paese di 60 milioni di abitanti nel nome del fatto che ti sta sulle palle Salvini non mi sembra un programma politico sufficiente è successa la stessa cosa a Trump ma si è salvato perché aveva una maggioranza si sente un po' il Trump italiano senza maggioranza Trump ha qualche miliardo in più qualche annetto in più però è un vizietto in giro per il mondo della sinistra di provare a vincere per via giudiziaria quando non riescono a vincere per via democratica però ripeto io confido che in Italia ci sia una magistratura libera sana indipendente che non si fa condizionare dalle richieste del PD di turno del tizio di turno ritiene che il passaggio del voto in Emilia Romagna abbia ridato tanto ossigeno al PD ieri ad esempio a di martedì sentivo il senatore Bersani dice dire Salvini non ha perso in Emilia Romagna perché voleva semplicemente vincere ma voleva addirittura stravincere voleva dimostrare di essere colui che si imponeva nel luogo per eccellenza dove da sempre il PD perché noi siamo diversi questo gli abbiamo dimostrato beh abbiamo preso Lucia ha preso un milione di voti la Rega ha preso il 32% che è un risultato che non abbiamo mai preso nella storia delle elezioni regionali in Emilia Romagna sicuramente ha vinto Bonacini io rispetto il voto degli elettori a differenza di qualcuno di sinistra che se non vince gli elettori non hanno capito un accidente quando gli elettori votano hanno sempre ragione detto questo siamo passati da 9 a 15 consiglieri regionali in Calabria eravamo all'opposizione siamo al governo e quindi diciamo che non abbiamo vinto anzi in Emilia Romagna abbiamo perso però c'è modo è modo di perdere perdere col 45% dei voti in una terra dove da 70 anni governa la sinistra ci metto la firma intanto le sardine dopo l'Emilia sono sparite ma ritornano adesso perché con la manifestazione appunto della Lega vengono all'Euro ma vengono accompagnate da Benettono Oliviero Toscani o vengono da soli? allora no per capire perché sabato fanno anche la manifestazione a piazza Santi Aposto di sabato e peraltro domenica c'è lei e la cosa paradossale è che c'è pure il Movimento 5 Stelle al quale noi abbiamo chiesto ma scendete in piazza contro di voi perché loro vanno a manifestare contro il taglio dei vitalizi ovviamente però noi gli abbiamo chiesto perché l'abbiamo avuto il Movimento 5 Stelle ieri c'è paradossale che scenda in piazza il Movimento 5 Stelle contro se stesso per certi versi quindi in una due giorni in una due giorni un po' particolare in cui le sardine stanno parlando con i ministri di questo governo perché stanno settando e già ti dà la dimensione del governo se il governo parla con le sardine e non con gli industriali voglio dire c'è qualcosina che però ognuno incontra chi vuole la cosa che mi incuriosisce di queste sardine ripeto al di là del fatto di andare a braccetto con Benettono e Oliviero Toscani che fra una cosa e l'altra dice ma si dai se crolla un ponte non è che interessi a nessuno e mi ha stupito anche per un movimento rivoluzionario il fatto che un tizio come George Soros abbia detto che bravi che sono sti ragazzi quindi tre indizi fanno una prova detto questo io leggo che sono a Roma per proporre cosa sono a Roma contro Salvini ora noi saremo al palazzo delle esposizioni all'Euro domenica le 16.30 e ci sono più di mille posti a sedere quindi l'ingresso è libero però ci sarà il presidente di un'industria a Roma e Lazio a parlare di imprese l'ex amministratore delegato di Roma metropolitane a parlare di trasporti pubblici il presidente dell'ACER Roma a parlare di edilizia e case popolari il presidente di federalberghi a parlare di turismo e denaro per Roma il presidente dell'ordine degli ingegneri di Roma a parlare di rifiuti il presidente di confcommercio a parlare di negozi il presidente dell'ordine dei medici Antonio Maggi a parlare di sanità che è al disastro in alcune zone del Lazio infine il presidente il consorzio del recupero periferie di Roma quindi noi chi viene all'euro alle 16.30 sa che si parla di rifiuti case popolari negozi turismo e le sardine sono lì perché Salvini è razzista ecco domando ai cittadini romani all'ascolto al di là della simpatia e dell'antepetria per Salvini Roma ha bisogno delle sardine che vanno in piazza contro il populismo e il razzismo o di una città più pulita più ordinata più ricca più bella ma se le sardine fossero nel palazzo di fianco e parlano anche loro di metropolitane case popolari energia ambiente giovani università turismo e case di riposo uno dice vabbè uno confronta le due idee noi siamo lì a parlare di questo quelli sono lì perché leggo che sono contro il populismo il sovranismo il razzismo di chi cala a Roma come i barbari ma che cazzo è adesso saranno scemi i romani che vengono a sentire parlare di rifiuti evidentemente la raggi aveva suscitato tante speranze ha fallito evidentemente in sanità io ho la casella piena di mail di romani e laziali che si lamentano delle liste d'attesa dei costi delle code i romani che ambiscono a qualcosa di più e meglio sono invitati all'euro quelli che invece preferiscono occuparsi di razzismo e populismo vanno in piazza con le sardine perché in democrazia anche se allontana il calice calenda potrebbe essere uno di quelli papabili per calenda per diventare non so no per diventare per provare a pensare il sindaco anche se lui allontana il calice ogni volta che gli viene chiesto poi magari la prossima settimana ma perché i romani poveretti dopo Marino e dopo la raggi allora ci dica lei se avete già pensato ci avete già il candidato io due o tre idee ce le ho io due o tre idee ce le ho però ripeto non basta non basta totti non basta immobile questo serve una squadra però qualcuno che non abbia padrini o padroni non abbia debiti di riconoscenza nei confronti di nessuno e potrebbe avere una bella idea di Roma c'è la famosa questione o famigerata a seconda di chi la legge la interpreta è lo scegliere alla Lega o insieme con fratelli d'Italia ma scegliamolo tutti insieme ma anche senza tessere il partito chi se ne frega non voglio mettere le bandierine senza tessere sulle regioni è per questo che è stucchevole il dibattito in Puglia tocca a me in Marche tocca a te in Toscana tocca a Tizio è come si supera però ma non si può mettere il centro-destra tutto insieme intorno al tavolo scegliendo nomi nuovi nuovi magari che non sono lì da vent'anni da venticinque anni non si può scegliere qualcuno magari senza tessere partito o magari indicato dagli altri partiti da Forza Italia da Fratelli d'Italia che però non sia sempre lo stesso e questo perché la gente a Roma come altrove mi chiede ragazzi il vostro programma mi piace il centro-destra è maggioranza dove governate governate bene però non riproponete ti faccio un esempio a Benevento è caduta la giunta chi si ripresenta come sindaco Mastella con Forza Italia Fratelli d'Italia il sostegno di Rotondi e Pomicino ora potremmo proporre qualcosa che mette piede negli anni 2000 o dobbiamo riproporre noi giornalisti aspettiamo solo che venga noi giornalisti ma anche cittadini aspettano solamente questo ci siamo ma anche perché un anno passa in fretta e voterà Roma ma voterà Milano voterà Torino voterà Bologna e quindi però volete anche la regione la regione si votava anche Marte voglio nominare il re di Marte se non sono candidabili in Italia mi presento sulla luna dobbiamo farla andare la facciamo andare volentieri ma lei si immagina che cosa ecco cosa si immagina mettiamo siamo arrivati al primo giorno del processo che cosa può succedere in Italia non sono mai andato nella vita a un processo da imputato cioè quando ho iniziato a far politica tante cose avrei pensato tranne che di andare a processo poi per sequestro di persona aggravato e continuato che prevede fino a 15 anni di galera cioè più che per uno spacciatore che per uno stupratore quindi adesso dovrò studiare come funziona in aula cosa si dice ma cosa si aspetta che succeda fuori dal tribunale ma c'ho il telefono intasato ma anche i social intasati di gente non leghista anche non leghista che non mi conosce che dice però è una follia è un assurdo è una presa in giro si aspetta mobilizzazioni non le vado certo a stimolare io però io ritengo di aver dimostrato coraggio lealtà e concretezza e poi non so non mi è mai capitato di andare di fronte a un giudice dovendomi giustificare per aver fatto qualcosa che ammetto di aver fatto nel senso che di solito uno va in aula e dice no non ero io non c'ero ero da un'altra parte no l'hai bloccato tu lo sbarco sì ma lo rifaresti sì e quindi boh la dobbiamo lasciare andare abbiamo sfrotto di un minuto rispetto alle promesse tre messaggi vocali quattro vocali perché so che ci teneva particolarmente a sentire come la pensassero certo tra i tantissimi che sono arrivati una selezione veloce Davide buonasera sono Patrizia volevo dire a Matteo Salvini andiamo pure a processo ma poi andremo finalmente alle elezioni saluti ancora uno vai grande Salvini tu sei un grande ma non puoi combattere pensa all'Italia se io vado in pensione a 42 anni nei versamenti lavoro a mia figlia che ne ha 10 sono mia figlia e lavoro beh pensa di immaginare quello che dico aiuta l'Italia sei l'unico che aiuta l'Italia ci metti la faccia hanno sempre magnato ecco come siamo finiti meno male che erano di 20 secondi questi messaggi vocali si è allargato al nostro ruote lo ringrazio però non sono un grande perché l'autista dell'autobus è pagato e guida l'autobus uno non è che gli dice sei un grande no mi pagano io ero pagato da ministro dell'interno per occuparmi di sicurezza e bloccare l'immigrazione clandestina combattere i mafiosi e gli spacciatori non sono un grande l'ho fatto ecco magari gli italiani erano non erano più abituati a uno che dopo le elezioni fa quello che aveva promesso di fare prima però non mi sento un grande adesso ripariamo il dibattito e non possiamo la morgese più volte ha detto che le cose non sono esattamente come le descrive lei sui numeri dell'immigrazione però io dico questa relata refera i numeri sono numeri gli sbarchi in questo 2020 rispetto al 2019 sono aumentati dell'800% siamo passati da 200 a 1800 ditemi voi se è normale grazie la prossima volta senti un po' di messaggi grazie in bocca al lupo e spero che torni a trovarci insomma a piede libero oggi scherziamoci su dai grazie grazie di essere venuto qua grazie